L'ANAC per due volte aveva dato un giudizio di inconferibilità all'avvocato Alessandro Piccinini alla guida della Gran Sasso Acqua perché era liquidatore di Euroservizi. Lo hanno ricordato le opposizioni in conferenza stampa che in attesa delle risultanze dell'azione della Corte dei Conti hanno tenuto oggi un momento di incontro con la stampa per esprimere il loro giudizio politico su tutta la vicenda. L'avvocato Piccinini oggi si dimette dal suo incarico alla presidenza dell'azienda perché è candidato alle regionali ma per i consiglieri Stefano Palumbo, Lia Serpetti e Massimo Scimia le dimissioni avvengono solo per la candidatura mentre sarebbero dovute avvenire prima e non solo per una seppur legittima aspirazione politica. La commissione vigilanza di Stefano Palumbo già si era occupata della vicenda. Piccinini avrebbe dovuto tutelare l'azienda spiega Palumbo. Riteniamo però doveroso a questo punto fare un commento politico nel momento in cui è stato annunciato da parte del presidente della Gran Sasso Acqua l'avvocato Piccinini le proprie dimissioni non so se ancora formalizzate per consentire lui di candidarsi alla regione e questo naturalmente implica una serie di considerazioni che intendiamo fare sul fatto che arrivino queste dimissioni solo oggi e solo per la candidatura alle regionali quando invece non sono avvenute finora nonostante un scontro fortissimo istituzionale con l'ANAC per resistere alle eventuali dimissioni che invece l'ANAC suggeriva fossero necessarie fare per tutelare l'ente rispetto al profilo di inconferibilità e questo dal nostro punto di vista è un po' l'emblema di come il centrodestra in particolare il partito dei fratelli d'Italia intende occupare le postazioni o comunque i ruoli istituzionali più evidentemente per gestione del potere e costruzione del consenso piuttosto che col rispetto che queste istituzioni meriterebbero quindi in attesa che la corte dei conti si esprima dobbiamo naturalmente fare questo commento perché nel momento in cui la corte dei conti ritenesse che l'ANAC ha ragione è evidente che tutto questo periodo l'avvocato Piccinini ha operato illegittimamente a capo della Gran Sasso Acqua e quindi questo è un dato politico di cui sicuramente non si può non tener conto.